Il treno regionale, 4991, di Trenord, proveniente da Tirano, è diretto a Sonrio, delle ore 7.46, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 4995, di Trenord, proveniente da Tirano, è diretto a Sonrio, delle ore 10.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 4994, di Trenord, proveniente da Sonrio, è diretto a Tirano, delle ore 13.35, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 4997, di Trenord, proveniente da Tirano, è diretto a Sonrio, delle ore 14.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 4996, di Trenord, proveniente da Sonrio, è diretto a Tirano, delle ore 17.35, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 4998, di Trenord, proveniente da Tirano, è diretto a Sonrio, delle ore 18.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 4998, di Trenord, proveniente da Sonrio, è diretto a Tirano, delle ore 19.35, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. di Trenord, che è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Al prossima!